Prima il litigio, poi le botte alla compagna e al cugino, infine l'arresto per resistenza pubblico ufficiale. Un uomo di origine nordafricana, su cui attualmente grava la misura cautelare dell'obbligo di firma, è stato protagonista di ben tre episodi violenti nel corso della stessa mattinata. Alle 5 del mattino di domenica l'uomo avrebbe partecipato a una lite con toni accesi in via Santa Franca. Due ore dopo, invece, è arrivata una richiesta di intervento alla sala operativa della questura per un'aggressione violenta lungo lo stradone farnese tra due presunti fidanzati. La ragazza ha dichiarato di aver subito diverse percosse e di essere stata colpita al volto dall'uomo. Dopo aver ricevuto le cure, la donna ha riportato diversi giorni di prognosi. Verso un quarto a mezzogiorno, la sala operativa ha inviato le volanti in via Montagnola per la segnalazione di una lite domestica. Giunti sul posto, gli operatori della polizia, dopo aver accertato cos'era accaduto grazie alla testimonianza dei presenti, hanno intercettato l'uomo segnalato in via Benedettine, a pochi metri dal luogo dell'aggressione. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118, che dopo aver trovato il cugino dell'uomo riverso a terra con una ferita alla testa, ne ha disposto il trasferimento all'ospedale. Nel frattempo, il nordafricano avrebbe minacciato gli agenti armato di rasoio. Dopo essere stato bloccato, l'uomo è stato portato in questura, dove ha continuato a inveire contro le forze dell'ordine. Nella mattinata di ieri, l'udienza di convalida ha determinato la misura cautelare dell'obbligo di firma.